Gentili telescoltatori, benvenuti a una nuova puntata di RTA Sport, anche quest'oggi incentrata al basket femminile di serie B e al basket baschile di serie C Gold e Silver. Ma andiamo subito con ordine a presentare gli ospiti di questa prima parte del programma iniziando con Fabio Banello, coach dell'ABF Montalcone. Buonasera a tutti. Fulvio Ianco, vice allenatore dell'MT OMA. Buonasera. E Piana Mazzoli, coach dell'ABFoliano. Buonasera a tutti. Iniziamo quindi subito a parlare con coach Fabio Banello di questa ennesima vittoria. Sabato scorso avete battuto in casa Sarcedo, una formazione che più volte in questo campionato ha dato del filo da torce. Se ci vuoi spiegare come è andata? Sì, è una squadra molto giovane, corre molto e ben allenata dall'amico Yogan. Forse la mia squadra comincia ad avere un po' i problemi di concentrazione. Infatti facciamo un break di 10 punti, eravamo fin vicino e ci hanno anche superato all'inizio del quarto tempo e poi abbiamo giocato la nostra palacanestra e abbiamo preso i 10 punti. Sarcedo è una squadra giovane, è una squadra che ha buoni elementi, naturalmente con difese molto aggressive, mani sempre addosso e naturalmente, essendo una squadra giovane, pecca un po' di tecnica eccetera, quindi cerca sempre il mezzo fallo eccetera. Yogan aveva organizzato una bella zona match-up, ci ha messo un po' in difficoltà, ma devo dire che quest'anno le prepariamo bene le partite e soprattutto le ragazze non hanno il patema d'animo di andare sempre del risultato, ecco devo dire perché stiamo giocando abbastanza tranquillamente, non abbiamo infortuni grossi, quindi per fortuna a differenza di altre squadre che hanno qualche infortunio stiamo viaggiando bene, adesso spero che sabato con Mugia non succeda un padatrac, ma devo dire che Sarcedo ci ha dato il tiro da torcere, ma la loro gioventù non ci ha dato grandi problemi. Con la vittoria di Mugia e la contemporanea sconfitta della società ginnastica triestina, pensi che la situazione perché concerne la zona play-off sia ben delineata? No, io dico di no ancora, perché Mugia deve ricevere Montecchio, San Martino di Lupari, Montecchio deve venire da noi, quindi secondo me ancora un paio di partite, noi siamo praticamente a 12 punti dalla quinta, sono in paio 18 punti, io sono molto la matematica non opinione, fin quando non ho la matematica certezza di essere quarto direi che non è mai sicuro. Per quanto riguarda, e spero andare avanti in modo da tenere sempre il fiatone su Udine, che non si sa mai che magari un passo falso di Udine possa così riaccendere gli animi di tutti quanti. Passiamo quindi a Fulvio Iancro e parliamo dell'MTO, ma una sconfitta sul quale di Ponzano condita da più di qualche recriminazione, cosa è successo? Ma intanto non è possibile che dopo tre partite vinte mi chiamate alla prima partita a parte, no questa è una solita battuta che faccio iniziale. Ma diciamo che noi ultimamente stiamo facendo delle gare un po' strane, cioè entriamo in campo e non siamo mentalmente pronte, quindi subiamo subito un break iniziale, come è successo anche a Ponzano, difatti. Pian pianino poi abbiamo recuperato, poi loro hanno allungato di nuovo, ci siamo trovati al quarto quarto sotto di 17 punti, li abbiamo recuperati tutti e poi due fischi arbitrali, qui lo dico ma non lo nego, che ci hanno condannati perché da un fallo ipotetico antisportivo a nostro favore si è ribaltata la situazione con un fallo agli altri e quindi ci ha messo un po' in crisi. Insomma, però le ragazze hanno reagito alla grande, devo dire, non molano mai, quindi queste ultime tre partite sono state quasi, diciamo, una fotocopia, tre volte ci è andata bene e l'ultima no, diciamo. A parte Mugia, che Mugia ce la siamo giocata proprio tutta la partita, eravamo sopra e sotto di tre, quattro punti e poi alla fine l'abbiamo fatta nostra, insomma. La squadra nelle ultime quattro giornate ha dimostrato di essere in crescita, secondo te merito degli infortuni che avete recuperato? Beh, un po' tutto, il lavoro che stiamo facendo in palestra, sicuramente gli infortuni che abbiamo recuperato, anche se la Gottardi riduce ancora da questa frattura il dito della mano, quindi io direi che stiamo lavorando bene, se non avevamo queste infortuni all'inizio forse che qualche punticino in più sicuramente adesso come adesso l'avremmo avuto sicuro, ecco. Però è tutto un insieme, direi, quindi non è solo il recupero degli infortuni. Passiamo quindi a parlare della Ibi Foliano con la coach Pia Ramazzoli. Coach, per voi una vittoria importante e soprattutto netta. Avete battuto in casa a Venezia con il punteggio di 83 a 41. Una vittoria che vi dà ossigeno. Sì, finalmente ci servivano due punti, ma soprattutto ci serviva la vittoria per ridarci un po' di morale e un po' di fiducia. La partita si è messa subito bene dall'inizio perché siamo entrate con la concentrazione giusta ed eravamo molto determinate. Venezia aveva qualche assenza, ma comunque sia devo dire che la partita secondo me l'avremmo fatta comunque noi perché eravamo veramente, siamo state veramente determinate, non volevamo perdere questi due punti che per noi vogliono dire adesso essere, tirare un sospiro almeno perché la penultima posizione era veramente troppo troppo vicina. La lutta per noi procede direttamente e quella per evitare la zona play-out è salvata. Pensavi così tante squadre racchiuse in pochi punti? Sinceramente sì, perché durante l'arco del campionato abbiamo visto vittorie di squadre che non ti aspettavi, sconfitte di squadre che non ti aspettavi. Quindi io alla fine immaginavo questa classifica. In realtà immaginavo anche di essere un po' più su, sinceramente. Però va bene, insomma, affrontiamo questa classifica qui e partita per partita vedremo cosa riusciamo a fare. Passiamo quindi il microfono a Fabio Banello e ti faccio così una domanda un po' particolare. C'è qualche giocatrice avversaria che ti ha particolarmente impressionato e che ti piace a bevare in squadra? Domanda? Beh sì, sicuramente per me, essendo un ex pivot ala, la bianco per me è una che averla in squadra avrei fatto qualche giochino anche per questa signorina qua. e beh, la classe della bianco lo sappiamo. Per quanto riguarda l'ala, beh, Fassina del San Martino di Lupari, è una bella lunga che gioca fuori. E per quanto riguarda sicuramente la Mugia, se potrei prenderla, Janicic, perché è una ragazza che è ancora cerba e ci è da lavorare tantissimo e la ragazza ha qualche numero. Sabato arriva il derby, giocate a Mugia, l'andata avete vinto, che partita ti aspetti? E beh, da parte loro penso agueritissime perché perdere, vogliere magari perdere anche un po' il treno del terzo posto, va bene che vanno avanti le prime quattro e dietro possono prendergli dei punti. Penso una partita vera, una partita dove sicuramente dalla loro giovinezza possono finire fuori delle giocate belle e buone. Io con le mie squadre un po' più tattiche e tecniche naturalmente cercheremo di metterle in difficoltà come abbiamo messo all'andata. Loro non so se sono al completo, siamo tutte le giocatrici, io in settimana dovrei recuperare anche la Rosso che ha avuto un problema muscolare e la Sustersic che era via per motivi di lavoro, quindi dovremmo essere anche noi al completo. Non so chi ci arbitra perché a me non piace vedere perché per non avere... non cambia niente perché è anche... ma c'è quello di Mufalcone, quello di Trieste, quello di Udine, quello di Coulà, di Coli. Quindi come diceva il buon Fulvio, i due uomini grigi quest'anno possono condizionare molto le partite. Il motivo è perché magari secondo me hanno anche poca esperienza. trovi l'esperto e quello meno esperto, però non vedo sugli spalti come c'era una volta un responsabile dove tra il primo e il secondo tempo, testimoni anch'io, venivano anche un attimino regolate i fischi e migliorati, cioè per migliorativi ecco, non le sfuriate per fargli stare male eccetera. E poi quando cerchi di farti spiegare, non ti do una spiegazione, dopo lasci stare poi il momento anche molto focoso che può essere pericoloso per non essere espulsi o altro. Come vivi in generale ai derby? Abbastanza... li sento perché... Tu senti tutte le partite? Sì. Lo sento molto perché davanti a una squadra blasonata come Mugia, siamo lì, siamo davanti, quest'anno abbiamo questo bel momento di essere lì seconde, il profumo dei play-off si avvicina e dopo sarà quel che sarà. Passiamo quindi a Fulvio Ianco, parliamo ovviamente dell'MTO, ma possiamo definire questo campionato dopo 21 giornate, suddiviso in tre tronconi ben definiti? Ben definiti direi non tanto, perché comunque tu vinci due o tre partite di fila e sei in una fascia, ne perdi una, due e ti ritrovi nel baratro. Quindi direi che quest'anno il campionato è stato abbastanza omogeneo, anche come diceva la Piera, che praticamente si è visto delle squadre che mai più si pensava potessero vincere contro squadre di un certo... che poi sì, un certo cosa non si sa, ma magari più tecnicamente forti di altre e si è visto appunto dei risultati, si sono visti dei risultati che sono delle sorprese, che poi alla fine della fiera in tutto questo campionato ormai sono diventato una routine, quindi neanche più una sorpresa. Quindi direi che anche noi domenica contro Treviso dobbiamo stare attenti, sono due punti che dobbiamo fare assolutamente. Spero che Monfalcone si spiacchi un po' per mercoledì prossimo, naturalmente è una battuta sempre, perché noi adesso siamo veramente lì e dobbiamo uscire da questa situazione che ci possa far respirare un pochino una mezz'aria di mezza classifica, ecco, una mezza classifica vera. Anche perché ricordiamo che Treviso è sotto di voi di quattro punti e con una vittoria anche gli stacchereste, no? Certamente, certamente. Diciamo che sotto a quattro punti abbiamo una marea di squadre. Noi siamo a pari punti con Sarcedo e quello che ci può far sorridere un po' oppure stare un po' più tranquilli e se teniamo questa classifica con i scontri diretti con Sarcedo li abbiamo vinti tutti e due, quindi siamo in una buona posizione. Però del resto bisogna stare attenti di tutti, di tutti in assoluto, anche la ginnastica, seppur in questo momento vive un momento di crisi e col derby si può ravvivare. Quindi ogni domenica, ogni sabato è una partita a sé, quindi direi che è da lottare fino alla fine. Queste nove partite sono 18 punti e sono tutti là. Quindi secondo me è un bel campionato comunque visto da questo punto di vista, che ci permette tuttora di non sapere ancora e di non essere delineata le prime quattro, le prime che possono andare ai play-off e le ultime che andranno ai play-out. Un'altra domanda che con te facciamo una sorta di gioco, escludendo le tue giocatrici, qual è la tua top 5 ideale di questa Serie B? Top 5? Diciamo che quello che noi ci serviva era appunto, come ha detto il buon Fabio, ritorno alla sua battuta, la bianco sotto canestro sicuramente, ci serviva qualcuna sotto che possa prendere rimbalzi perché, e l'avevamo, c'era, qua non faccio pubblicità progresso, ma era già sul giornale che doveva giocare con noi. Poi all'ultimo momento le strade si sono un attimo divise, ma effettivamente come guardi e come play direi che potevamo fare un buon campionato. Se ci fosse stata la bianco sicuramente avevamo quella, non dico ciliegina sulla torta perché non è che comunque lei sposti, che sia una giocatrice che sposti le gare e le partite, però comunque una presenza sotto canestro sicuramente. Passiamo quindi al microfono a Piera Mazzoli e parliamo con te del settore giovanile che tu anche ovviamente segui molto. Come sta andando? Allora, noi, guarda, proprio ieri Under 20 abbiamo vinto una bella partita contro Sistema Rosa a Pordenone e ci stiamo giocando il terzo posto con la ginnastica triestina e chiaramente siamo sotto di due punti, però possiamo ancora lottare e quindi bene. Stiamo facendo anche dei buoni campionati con le Under 16, le Under 13, quindi direi che l'annata è abbastanza positiva. Io mi ritengo abbastanza soddisfatta fino adesso. Secondo te quali sono le squadre, parliamo ovviamente di la prima squadra, che potete giocarvela per evitare i play-out? Ma guarda, noi abbiamo, fra una settimana abbiamo Treviso, che secondo me è una squadra in difficoltà e devo dire una cosa, che l'importanza degli infortuni in questo momento per noi è di fondamentale importanza, nel senso che io ho giocato la prima partita con tutto il mio roster domenica e si è visto. Ho visto che altre squadre sono in queste condizioni e se non hai tutte le giocatrici la partita cambia, è proprio così. Quindi bisogna veramente vedere di partita in partita se la squadra avversaria le ha tutte, se non le ha tutte, quindi da lì te la puoi giocare fino alla fine. Com'è la situazione degli infortuni per quel che concerne la prima squadra? Guarda, io mi tocca il naso, ci siano tutte e anche Cerigioni dovrebbe togliere la maschera perché si era rotta il naso, quindi è finito e quindi dovrei essere in pieno delle mie forze. Ecco, quindi parliamo del prossimo turno che voi appunto sarete di scena a Puntano contro una formazione di metà classifica. Devo dire che noi in trasferta facciamo un po' di difficoltà, però vediamo, come ti ho detto prima, giochiamo di partita in partita, ogni match ha la sua storia. Ribadisco, siamo fiduciosi dopo domenica, lavoriamo bene durante la settimana e sabato vediamo. Se prendiamo due punti sono veramente oro per noi. Oro in un momento che comunque, come vedi la squadra? Non voglio essere troppo ottimista, ma le vedo bene, insomma, si sono caricate, abbiamo giocato anche una buona pallacanestra domenica, quindi sono contenta e speranzosa. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa prima parte, ringraziamo coach Piara Mazzoli per quel che concerne la Ibi Foliano. Grazie a voi, buonasera. Il vice coach Fulvio Ianco dell'MT OMA. Grazie a tutti, buonasera. Fabio Banello per quel che concerne l'ABF Monfalcone. Grazie e buonasera a tutti. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e ritorniamo fra poco.